Contraffazione al servizio dei più bisognosi. Non si tratta di uno strano scherzo, bensì di un gesto di solidarietà fatto dalla Guardia di Finanza di Vicenza, che ha consegnato oltre 7500 capi di abbigliamento sequestrati dal nucleo di polizia tributaria alla Caritas provinciale, che provvederà poi a distribuirli agli indigenti che frequentano le diverse strutture di accoglienza. Maglioni, polo, jeans e anche scarpe che riportano i marchi contraffatti di alcune griff erano stati confiscati nel 2006 e sarebbero stati destinati al macero. Ma gli uomini della Guardia di Finanza hanno testato la buona fattura dei prodotti contraffatti. Si tratta dunque di falsi di qualità, fatti con tessuti che possono essere utilizzati dalle persone. Devono essere fatti i test di qualità. Quando si parla di prodotti contraffatti, il problema investe talora il problema della sicurezza del prodotto. Ci sono prodotti che possono nuocere alla salute, da prodotti alimentari, per parlare ovviamente dei più comuni, ma anche giocattoli, che possono essere nocivi ai fruttori che sono piccoli, appunto bambini. Nel caso di specie invece il prodotto è stato testato, è risultato assolutamente utilizzabile e quindi in questa misura è stato possibile così accedere e dar corso all'iniziativa. Siamo riconoscenti alla magistratura e alla finanza che ha avuto questa attenzione. metteremo a disposizione questi cappi di chi ne ha bisogno, ovviamente anzitutto la realtà vicentina, quindi San Faustino, Mezzanino, Papa Giovanni XXIII, le comunità terapeutiche, penso anche il carcere, tutti quelli che operano con persone che hanno bisogno di indumenti e se necessario anche con la popolazione abruzzese presso la quale siamo dal 22 aprile. Dopo aver ottenuto l'autorizzazione dal magistrato a dare le merci in beneficenza, la Guardia di Finanza ha donato tutta la merce ancora imballata negli scatoloni alla Caritas e in parte verranno donati anche alle popolazioni dell'Abruzzo colpite dal terremoto del 6 aprile.